Strumenti di questo tipo erano per lo più impiegati per ottenere la scarica cosiddetta istantanea di una bottiglia di Leida. Quando la bottiglia è carica, le sue armature presentano cariche di segno opposto. Per esempio, l'armatura esterna è carica negativamente e quella interna positivamente. Portando un estremo dell'eccitatore a contatto con l'armatura esterna, esso si carica negativamente. Avvicinando poi l'altro estremo al bottone dell'armatura interna, le cariche di segno opposto tendono ad annullarsi e per la presenza dell'aria si generano vistose e rumorose scintille.